Se è un messinese doc al 100% però la tua autobiografia è un po' vera, un po' falsa. Purtroppo sì, quindi sono contento di averla scritta e basta, abbiamo finito, finisce qua. Finisce l'intervista e basta, sono contento. Quando penso a Nino Frassica, penso a una comicità genuina, una comicità non volgare ma non per questo meno divertente. Com'è cambiato oggi il cabaretto italiano? Allora io non ti so rispondere a questa domanda però io c'ho qui il mio amico Mario, rispondi com'è la mia comicità? Te lo dice lui? È geniale. No, basta una parola sola. Geniale, fantastica, straordinaria, meravigliosa, magnifica eccetera eccetera eccetera. Ti abbiamo detto tutto. Sei stato il testimone dell'isola pedonale che adesso non c'è più, secondo te è un passo indietro per questa città? Io ci sono rimasto male, però sto cercando di capire i veri modi cosa c'è dietro perché mi sembra strano, però non capisco. Aspetto che gli amici mi spieghino meglio cosa è successo. Messina? Odestamente non lo so e quindi voglio capire. Ma non voglio sentire una sola bandiera, voglio sentire tutte le due voci. Lo stato di salute di questa città secondo te qual è? Qual è? Il peggior difetto del messinese è la passività, però il migliore pregio è la grinta, quindi c'è una quota 70 passivi, 80 attivi, per cui c'è da sperare perché supera la grinta, supera l'apatia. Quindi dobbiamo vedere, c'ho l'organizzazione, per queste cose c'ho l'organizzazione, per migliorare i lupi solitari e non riescono a fare quello che possono fare invece un intero gruppo. Quindi serve organizzazione. Grazie. Frassica cosa rappresenta per Messina? La frassica è Messina, è un pezzo di storia, è una persona che non dimentica la sua origine, la sua città, la sua Galati, la sua Messina, rappresenta l'ironia, rappresenta veramente un valore. Guardate, vivere col buon umore è una cosa che fa bene alla salute, fa bene all'anima. E lui ormai addirittura ha cambiato anche un vocabolario che tutti utilizziamo ogni giorno con le battute di Nino. Perciò vuoi che non c'è una riconoscenza verso di lui? Chiaramente ormai è entrato nella vita di tutti noi cittadini. E poi dico sempre una cosa importante, che lui ride, fa ridere, ci ha fatto vivere una vita più allegra, però poi c'è nei momenti giusti. Non posso tralasciare di dirvi che sull'isola pedonale è venuto perché chiaramente ha un valore così forte. E' stato il testimone di quest'isola che adesso non c'è più? Si è schierato, si è schierato. Guardate, non dobbiamo avere paura di questi colpi di coda che non c'è più per ora all'isola. Noi abbiamo già vinto perché abbiamo intanto fatto assaggiare ai cittadini messinesi, perché l'isola pedonale non può essere un fatto teorico, la devi vivere. Per ora non mi crea nessuna paura che si vince altare, che si perde altare. La cosa più importante è far fare i percorsi di cambio culturale e c'è la maggior parte dei cittadini che hanno potuto assaggiare l'isola pedonale dai bambini a qualunque età e ormai non si tornerà più indietro su questa cosa qua. Per ora momentaneamente si smonta, anzi non vedo l'ora che ci sono piene di macchine là dentro, perché la gente potrà capire com'è la vita piena di macchine, con le doppie file, con il traffico, il rumore, con lo smog, senza pace. E la gente potrà dire, porca miseria, ma prima era straordinario, perciò ormai hai messo nell'anima e nella coscienza delle persone, ora c'è non un dubbio, ora c'è la certezza, perché l'hanno gustata l'isola pedonale. Non più chi va fuori messina e dice quanto è bello a Berlino, a Roma, a Milano, l'isola pedonale, non è la propria città, perciò è un viaggio senza ritorno, perciò non mi faccio prendere. Guardate bisogna, per stare dentro questo palazzo e lottare per questa città combinata così, con tutti i veleni, deve avere una forza interiore che non finisce mai. E per questa mia città la mia forza va ad aumentare, la gente mi dice ma come fai? No aumenta, più ci sono le difficoltà più aumenta. Perché è chiaro, se ho scelto questa strada che mi hanno coinvolto i cittadini, perché è venuta veramente dal basso, io non posso tradire me stesso, i cittadini e un percorso così nobile, dovrei pagare per fare quello che si sta facendo. E l'affetto delle persone e il percorso culturale di cambiamento cambierà le nostre vite, perciò ci sarà modo di rivedere l'isola, vedrete che poi ci sarà e sarà più grande.